L'idea originale è jogging più raccattare la spazzatura in centro città. Nel nostro caso, siccome volevamo che fossero presenti anche persone di diversa età o anche chi magari non ha proprio necessità di fare jogging, facciamo semplicemente delle camminate, che possono essere camminate in centro città oppure escursioni nella natura. L'importante è, l'idea è quella di lanciare un movimento, lanciare una moda, cioè non buttiamo la spazzatura, ma quando passiamo, andiamo a fare una passeggiata, andiamo in un posto con gli amici, andiamo a fare un'escursione, un sacchetto dietro, raccatto una, due pezzi di plastica, quattro pezzi di carta, basta poco. Vorremmo che le persone che fanno attività fisica, trekking, vanno a correre, vanno a camminare, eccetera, magari partano da casa con un sacchettino e mentre fanno la loro attività fisica o la loro passeggiata portino via anche lo sporco che trovano per la strada.